Un aumento scontato dopo il calo del weekend. I dati confermano che siamo davanti ad una giornata di rialzo dei nuovi casi di coronavirus dopo la diminuzione di esami effettuati domenica scorsa, ma è l'entità di questo rimbalzo per alcuni parametri a preoccupare a spingere in particolare i medici a parlare di rischio tsunami sul sistema sanitario. È di poco più di 28.200 il numero dei nuovi positivi al covid-19 in Italia nell'ultimo giorno. Non certo la cifra più alta in assoluto non è più alta però nemmeno la cifra dei tamponi effettuati 182.000. Ma prima di prendere in esame il rapporto tra positivi e tamponi effettuati si deve parlare del numero delle vittime. Oggi sono state 353, 120 in più di ieri, mai così tante dal 2 maggio, due giorni prima della fine dello scorso lockdown. Se come abbiamo detto il numero dei positivi non è il più alto in assoluto, erano infatti 31.756. Il 31 ottobre rispetto a quel dato cresce la percentuale che sintetizza il rapporto tra esami effettuati e nuovi casi accertati. Allora con più di 215.000 tamponi processati era il 14.7% nelle ultime 24 ore sale di quasi un punto. Significa che su 100 tamponi fatti viene scoperto un nuovo caso di coronavirus in più. Lombardia con 6.800 casi, poi Piemonte e Campania, le tre regioni con più positivi rispetto al giorno precedente. A spaventare però c'è soprattutto la situazione negli ospedali, tanto che Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale Medici, Chirurghi o Dontoiatri d'Italia sui social, scrive il problema è la tenuta del sistema sanitario. La situazione potrebbe sfuggirci di mano. La nostra preoccupazione è che questa seconda ondata non sia una mareggiata ma uno tsunami. I dati oggi dicono che negli ospedali adesso ci sono più di 21.000 persone positive al covid e ricoverate con sintomi 1.200 in più rispetto a ieri, ma in crescita ci sono anche i ricoveri in terapia intensiva. In tutta Italia adesso ci sono 2.225 pazienti, 200 in più nelle ultime 24 ore. Domenica i nuovi ricoveri erano stati 83.